DINNUMINATION Ti propongo delle situazioni e tu devi reagire come un gatto Ci sto Riporta Via, vado io No, riportare da idioti Tu sei superiore I gatti atterranno sulle zampe? Davvero, come fa? Sì, ce l'ho fatta Bravissima It's precious Devi farlo, è un fatto naturale Assolutamente no, non succederà mai Ragazzi, quanti dolcetti! Ah, merda Su E coda in faccia Ok, cappe sulla tazza Cammina sulla tastiera Ecco fatto Caffè sul computer E giù Ottimo Sì, ci siamo Sei il massimo del gatto per essere un cane Mangia pisellino Cosa? I gatti lo fanno Sul serio le fai mangiare pisellino? Oh no, 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 sto scherzando Ok E giù te no Brutto cagnaccio Brutto cagnaccio No, scusa No, 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 no Grazie a tutti.